A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, eccoci arrivati al webinar Digi di ogni mese. Questa sera parleremo di un tema molto molto interessante per quanto riguarda la metodologia della price action. Prima di partire però, ovviamente come sempre, do un buonasera, un saluto a tutti quanti presenti in sala quest'oggi. Alcuni che conosco, tra l'altro vedo che Carlo è qui in prima fila, Stefano, Simone, Pier Giuseppe. Alcuni di loro sono anche utenti dell'accademia della price action del sito IR Forex, questo nuovo percorso formativo della durata di 18 mesi che abbiamo iniziato con IR Forex, che è il sito che dal 2010 vede la promozione del nostro metodo di trading, del nostro approccio, della nostra filosofia al trading. Poi saluto anche altri che non conosco come Sabrina, Rinaldo, Fabio e altri che vedo qui che state salutando tutti in chat, Michele, mi pare di vedere, insomma e altri che vedo stanno entrando nella sala di oggi, del corso di oggi, dedicato alla Pinocchio Bar. Allora, sì, mi presento, per chi non mi conoscenze, io sono Arduino Scherato, sono un trader privato, faccio anche attività formativa insieme a DG dal 2012 e dal 2010 sono presente online con questo sito che vedete qui, IR Forex, dove abbiamo nel tempo sviluppato alcuni corsi e alcuni servizi, e quelli qua che trovate qua, dedicati proprio al trading, quindi c'è il Mentorship Platinum, dove ogni giorno facciamo trading la mattina, facciamo una trading room matutina, dove all'interno ci sono le analisi di fine settimana, un'area riservata, un canale Telegram, eccetera, eccetera, e poi dei corsi approfonditi, dedicati sia al trading, che alla parte, diciamo, più del mindset, quindi l'approccio a questa attività, e poi c'è l'Accademia, come vi dicevo, che invece è proprio un percorso della durata di quasi due anni, per chi vuole far diventare questo una, diciamo, un'attività nel medio e lungo termine. Bene, allora, fatte le dovute presentazioni, io andrei a partire, diciamo, andando a vedere i grafici, perché, come sapete, il mio modo di spiegarvi le cose non è attraverso delle slide, come molti di voi sanno, ma attraverso, magari, esempi reali del mercato, e quindi andandoli a vedere e cercando di capire come comportarsi in determinate situazioni, su determinati trigger, che in questo caso hanno il nome, prendono il nome di Pinocchio Bar. Allora, partiamo sempre da che cos'è la Pinocchio Bar, anche perché comunque qui vedo molte persone, tra l'altro questa sera, mi fa piacere, e vedo anche molte persone che non ho mai sentito, e quindi magari qualcuno è anche nuovo a questa attività, e soprattutto anche alla Price Action. Allora, io adesso vi faccio dei disegnini, vi faccio capire di cosa, a cosa mi riferisco quando parlo di Pinocchio Bar, avrete capito, è uno di quelli che io chiamo trigger di entrata, ovvero nel momento in cui il grafico che abbiamo di fronte dell'asset che stiamo analizzando mostra un determinato, una determinata forma grafica, a quel punto potrebbe stare a significare alcune cose da un punto di vista informativo per noi trader, quindi potrebbe dirci niente, come potrebbe dirci, attenzione perché qui questa informazione statisticamente può portare il mercato a salire o ad abbassarsi, a scendere, se è visto in determinate contestualizzazioni, diciamo, di mercato, e quindi per esempio contestualizzando il trend, o contestualizzando i livelli chiave, che sono le due, diciamo, situazioni più importanti. Oggi noi, adesso io vi spiegherò un attimo cosa sono le Pinbar, e come è meglio tradarle, però faremo anche degli esempi grafici e probabilmente gli esempi maggiori mi piacerebbe farli dedicando spazio più a questo tipo di trigger operativo quando siamo nella tendenza di mercato. Magari se abbiamo tempo, poi alla fine vediamo anche uno o due esempi quando questo tipo di trigger invece si viene a sviluppare e a creare contro la tendenza di mercato. Vediamo un po' anche se faremo tempo in questa oretta insieme a fare tutto al massimo. Poi dedicherò un altro webinar alla contestualizzazione contro la tendenza delle Pinbar. Però intanto partiamo e vediamo di cosa si tratta quando parliamo di questo trigger. Allora intanto il trigger Pinbar, questa è una lavagna bianca, io qua disegnerò, è un trigger che ci va a segnalare che cosa? Un mercato che è sceso durante la sessione e che poi ha avuto un rialzo e alla fine della giornata chiude con poco corpo e tanta ombra che potrebbe essere anche così, potrebbe essere anche così come potete capire adesso io ho fatto quattro esempi grafici per farvi capire la tipologia di grafica della Pinbar. Ovviamente al contrario, quindi questo qui poi come vedremo è una Pinbar di stampo long Pinbar di stampo long Ovviamente dall'altra parte stessa cosa se noi avremmo un tipo di trigger graficamente fatto in questo modo ecco qua troveremo facilmente eccolo qui o così tanto per fare proprio degli stessi esempi gli stessi esempi del long però in ambito short ecco qua diciamo che graficamente la Pinbar long ha questo tipo di come dire, graficamente ha questo tipo di candela se vogliamo e invece short quest'altra qui adesso vedremo che vanno contestualizzate io oggi vorrei darvi diciamo delle regoline abbastanza generali però sappiate che quando si fa price action una delle prerogative è quella che il trader deve ragionare di fronte a quello che trova di fronte certi lo chiamano trading discrezionale diciamo a me piace chiamarlo trading ragionato cioè ci si trova di fronte a una determinata situazione in questo caso magari una Pinocchio bar e si contestualizza la struttura l'ambiente dove siamo ecco perché io da vent'anni a questa parte faccio settimanalmente o il sabato o la domenica mi faccio un'analisi per la settimana di mercati che seguo maggiormente che non sono troppi ve lo dico già un consiglio è quello di non fare troppi mercati e di andare a valutare il tipo di struttura su un grafico weekly e poi sul daily andare per esempio alla ricerca giorno in giorno di questo trigger per esempio questo e altri 2-3 che io utilizzo nel mio trading quindi che caratteristiche ha la Pinbar la caratteristica della Pinbar è che durante la sessione giornaliera o settimanale e qui apro una parentesi e la chiudo quasi subito che è quella del time frame la price action non si fa su time frame più bassi del 4 ore con attenzione massima a grafico weekly per l'analisi della struttura che per me vuol dire analisi del trend livelli volatilità e swing e sul daily per invece andare proprio a trovare gli spunti di entrata ma anche capire se la struttura daily diciamo che è in linea con la struttura weekly ok? allora qui Sabrina mi dice che non si vede niente non c'è il grafico mi confermate che voi vedete quello che io ho disegnato altrimenti ho fatto tutto per per nulla ah ok adesso sì perfetto perfetto va bene va bene ok 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 grazie oh c'è anche Damiano saluto ciao ciao Damiano va bene quindi allora prima cosa la Pinocchio Bar ha un'ombra lunga quindi ha uno spike evidente una tail una coda chiamatela come volete io lo chiamo spike cioè questa questa cosa qua no? il mercato ha mostrato un'accelerazione in questo caso ribassista durante la giornata per poi fare un grande recupero e chiudere proprio totalmente all'opposto di dove durante la giornata è andata a fare una grande volatilità una grande direzionalità quindi voi provate a pensare se io mi trovo di fronte a una barra come questa o una di queste durante la giornata la candela era totalmente rossa ecco una cosa aspettate che la disegno più correttamente preferisco che la Pinbar Long sia così preferisco ok quindi che sia verde così siamo anche più bravi e facciamo una cosa fatta meglio sia verde vabbè qui rosso verde cambia poco spero che sia così qua rosso verde cambia poco ma soprattutto quando c'è un po' di corpo meglio che il corpo sia il corpo che meglio non è una diciamo un elemento sine qua non fare non fare l'operazione ma è da osservare anche questa cosa mentre per il 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 pattern short assolutamente va bene rosso quindi vedete no ci sono gli spike cioè la giornata deve essere la spike dico la giornata potrebbe essere la settimana potrebbe anche essere un 4 ore ecco la pre-section sotto il 4 ore no e soprattutto se si fa il 4 ore dobbiamo essere molto molto essere stati molto bravi nell'aver fatto un'analisi molto a dettagliata sul weekly e magari anche su daily quindi 4 ore ci serve come un non voglio dire sostituto del daily perché non lo è ma un supporto al daily perché ricordiamoci che i time frame rappresentano lo stesso strumento la stessa la stessa storia in realtà di quello strumento però ci rappresentano quella storia dello strumento in maniera un po' diversa cioè con più dettagli quindi il 4 ore avrà qualche dettaglio in più del daily e il daily avrà qualche dettaglio in più del weekly nel movimento che c'è stato ma quello che rappresenta è uguale il weekly ci mostra una certa linearità di fondo che gli altri magari i time frame non ci mostrano quindi ci mostrano la stessa cosa ma da punti di vista differenti con dettagli maggiori per esempio quindi il formarsi di una candela come questa daily magari ora direi che sul 4 ore si sarà formato una dinamica che ha formato questa cosa qua o se questa è weekly il daily o il 4 ore ci mostrerà una dinamica che ha formato questa in quella dinamica a volte ci sono anche delle situazioni da andare a osservare e questo vale un po' per tutto no? quindi prerogativa importante per fare questo tipo di trigger di cui oggi parleremo è l'andare a focalizzarsi in maniera direi assoluta sui grafici a time frame alto quindi non parliamo di pin bar a grafici a 15 minuti ecco questo deve essere molto molto chiaro per tutti che cosa ci rappresenta la pinocchio bar? ci rappresenta un'informazione operativa assolutamente efficace interessante importante che io utilizzo praticamente non voglio dire da quando faccio trading ma quasi ed è una delle tipologie di trigger come mi piace chiamarla a me forse più efficaci nella mia storia più efficaci e anche più che si mantengono nel tempo perché ancora oggi io le utilizzo e ancora oggi contestualizzandole in una maniera corretta danno delle informazioni incredibili in maniera molto semplice perché come sapete e come vedete adesso dal mio grafico che tra un po' farò vedere il mio grafico è semplice io non uso indicatori non uso oscillatori non uso volumi non uso cicli non uso nient'altro che la purezza del prezzo del grafico sui time frame alti quindi per me è importante vedere e capire bene quello che è successo una pinocchio bar quindi long che cosa mi ha mostrato mi ha mostrato un ribasso durante la sessione spesso questi minimi hanno sono andati a testare altri minimi o addirittura li hanno rotti quindi hanno rotto dei minimi li hanno recuperati oppure li hanno testati e poi li hanno recuperati stessa cosa vale per i massimi magari hanno rotto alcuni massimo li hanno testati per poi scendere questo è cosa che deve succedere assolutamente altrimenti diventa un problema non è potrebbe non essere più la pin bar che noi vogliamo vedere perché perché pinocchio bar quindi anche il nome dice tutto pinocchio era quella storia che conosciamo tutti quella favola in cui pinocchio diceva le bugie più diceva le bugie più il naso gli si allungava ecco stessa roba quindi deve esserci una bugia del mercato deve esserci un movimento verso un'area dove poi viene completamente quest'area viene fallita dove si viene a riprendere la forza dei compratori ecco la bugia cioè c'è stata una bugia il mercato ha fatto finta diciamo di scivolare verso il basso per poi essere riacquistato e chiudere addirittura il rialzista e va la stessa cosa anche per il ribasso stessa identica cosa questo tipo di trigger è un trigger come dicevo che ancora oggi è validissimo perché tradandolo con time frame alti su mercati che hanno tanti scambi come per esempio il mercato del forex o i principali indici o per esempio l'oro o il petrolio che sono i maggiori mercati per scambi che io utilizzo da sempre e che sono appunto i maggiori mercati guardando gli time frame alti questa tipologia di informazioni ci stanno indicando proprio delle cose ci stanno indicando dove il mercato è andato a mettere i suoi soldi e dove ci sono stati interessi a comprare o a vendere questo è e quindi questo tipo di trigger ci permette di avere una visione molto chiara di quello che può essere successivamente il mercato soprattutto come dicevo all'inizio se questo è contestualizzato in una struttura di fondo quindi se per esempio io mi trovo di fronte a una pin bar long come adesso vedremo in una tendenza long quindi abbiamo un mercato che sta salendo questo scende e poi sulla su questa zona mi fa una pin bar long eccolo qua e il mercato stava salendo questa dinamica è molto interessante perché potrebbe portare i prezzi a fare che cosa salire perché qui c'è stata una dinamica in cui che ci sta raccontando che il mercato ha voluto ancora scendere in quella giornata non è più riuscito a scendere ha recuperato ha fallito tutti i minimi precedenti e poi ha recuperato e quindi è molto probabile che dopo una situazione del genere il mercato riparta e continui la sua il suo movimento ci sono anche come dicevo prima dei dei momenti in cui le pin bar possono essere anche viste in ottica questa qui che vi ho così disegnato era in ottica di tendenza long ci sono momenti in cui magari noi abbiamo una tendenza short il mercato sta scendendo fa il suo recupero magari qui avevamo un massimo eccolo qua fa questo e poi recupera e scende eccola qua questa è la classica pin bar che va a falsare va a cercare dei massimi precedenti non li trova e questo poi porta i prezzi magari andare qui e fare e quindi io da questo punto dove posso vendere fino a qui o comunque nel movimento che può fare il mercato io posso trovare degli spunti per andare a vendere per esempio e per andare a guadagnare da un mercato in discesa vi faccio un altro esempio anzi altri due le pin bar sono molto versatili si possono utilizzare anche in mercati oggi non so se vedremo questi esempi ma in mercati range quindi c'è una situazione di questo tipo e noi abbiamo magari delle pin bar che si formano nella parte alta e nella parte bassa ecco che nei mercati range vuol dire quei mercati che sono che stanno rimbalzando da un punto A a un punto B e da ancora da un punto A a un punto B e rimangono da A a B mi viene in mente per esempio nel medio termine il petrolio che è una situazione del genere e o altri anche mercati che possono essere che hanno ogni tanto questo tipo di dinamica ecco ce ne sono ecco che noi possiamo andare sulla parte alta e sulla parte bassa e cercare le pinocchio bar per esempio e per finire come vi dicevo prima c'è anche l'utilizzo di queste pinocchio bar in un contesto di tendenza magari fortemente long ma che ci danno invece un'informazione di esaurimento di quella tendenza long quindi magari noi siamo qui c'è un mercato che sta salendo 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 qui c'è un livello importante e si forma magari una pinbar per esempio questo mi viene in mente l'oro sia delle ultime settimane ma anche degli ultimi anni che per un paio di situazioni su grafico weekly poi magari se facciamo in tempo lo guardiamo ha formato delle pinocchio bar contro la tendenza di fondo ma che davano il diciamo il giusto input l'informazione per magari cercare degli spunti per fare che cosa per vendere perché su quell'area il mercato non aveva più la forza e ce l'ha mostrato attraverso l'utilizzo della pinocchio bar perché ricordiamo cosa ho detto prima la pinocchio bar ci mostra dove sono andati i soldi se la guardiamo su time frame alti voi provate a pensare un euro dollaro che è il mercato che scambia di più di qualsiasi altro mercato al mondo ma anche un S&P 500 se vogliamo rimanere per esempio in ambito azionario che è l'indice più scambiato con più volumi più scambi durante le giornate ma anche gli altri molto importanti come Nasdaq DAO per carità sotto i indici importanti però l'S&P è il più grosso se noi lo guardiamo su un time frame come il weekly o il daily per formare quel tipo di trigger ci sono stati un sacco di interessi c'è stato un bilanciamento e risbilanciamento di domanda e offerta quindi c'è stato un sacco di movimento e ha portato poi a fine settimana o a fine giornata una determinata situazione che graficamente ci sta dicendo qualcosa ogni giorno il grafico in realtà ci parla quando ci dice e ci parla di Pinocchio Bar ci dice delle cose molto molto chiare non tutte le Pinocchio Bar sono da tradare ecco perché prima parlavo di contestualizzare e quest'oggi mi piacerebbe con voi andare a focalizzarmi maggiormente sulle Pinocchio Bar in trend se ci sarà tempo ripeto magari vediamo anche quelle però a me piace andare un passo alla volta andare magari ad approfondire di un trigger una parte poi magari una volta successiva magari potremo vedere anche con più esempi anche altri tipi di Pinbar su altro tipo di struttura per esempio però la Pinocchio Bar in trend diciamo che è la Pinocchio Bar che potremmo definire tra quelle più remunerative seppur anche quelle contro trend in range voglio dire stiamo parlando di un trigger che ha veramente una grande efficacia però insomma in trend perché perché in trend possiamo darci delle regoline abbastanza semplici senza dover segnare in maniera troppo avanzata i livelli anche se molti di voi qui comunque studiano anche la price action da noi in Airforex alcuni addirittura sono in Accademia quindi stanno approfondendo in maniera assolutamente quasi maniacale diciamo questo tipo di metodologia che io negli anni ho fatto sempre più mia vi dico solo che nel 2009 fine 2009 sono stato il primo in Italia a fare un evento a Milano ricordo ancora Michelangelo di oltre 400 persone dedicato alla price action quando la price action non si sapeva ancora cosa fosse in Italia e dove mi ricordo parlai proprio delle Pinocchio Bar oggi nel 2023 25 maggio sono con voi vi sto parlando ancora delle Pinocchio Bar quindi non è che mi sono messo a fare altro ma lo faccio da tanto tempo questo tipo di questa tipologia di dinamiche di prezzo le continuo a studiare le continuo a evolvere anche se vogliamo cercando di migliorare nei dettagli ma quella è ok quindi ho una profonda conoscenza di questo tipo di dinamica bene allora adesso io qua potrei cancellare questi disegni qua abbiamo tutti capito un po' cosa vogliamo andare a cercare quindi abbiamo da ricercare sul grafico questo tipo di setup allora in questo caso quindi vado a cancellare qui fatevi una una fotina se volete è bruttino ma si capisce bene e andiamo a vedere i grafici eccolo qua questo è l'euro dollaro io prendo l'euro dollaro perché lo ritengo insomma uno dei mercati che io personalmente ho fatto e faccio maggiormente e direi di prendere l'euro dollaro magari sul daily dove per esempio noi andiamo più alla ricerca delle pinocchio bar e come vi dicevo prima io qui andrei a prendere la regolina di prendere intanto solo le pinocchio bar che sono in trend in tendenza allora per questo senza complicarvi troppo la vita perché molti di voi qui sono alla prima esperienza magari di price action facciamo una diamo una regolina io come vedete l'unico indicatore che utilizzo è la media mobile che trovate sul grafico cioè questa linea che segue i prezzi vedete ecco si chiama media mobile ed è in questo caso quella che uso io è una exponential quindi un esponenziale a 21 periodi che utilizzo da 16 anni probabilmente 16-17 anni exponential vuol dire che non è una media semplice ma va a pesare maggiormente gli ultimi giorni in questo caso essendo una 21 è pesata sugli ultimi 5 giorni ok quindi se io vado a prendere qui la esponenziale 21 è pesata sugli ultimi 5 giorni ok questa qua esponenziale sulla ProRealTime di IG se no potete metterla semplice vedete vi faccio vedere questo qui è semplice quindi è molto simile però essendo semplice è una media aritmetica come quella che ci insegnavano alle medie cioè io prendo da qui gli ultimi 21 giorni faccio una somma delle chiusure è attivata sulla chiusura questa questa media degli ultimi 21 giorni quindi faccio 107 187 più 107 187 108 06 più 108 54 quindi sommo tutti i numeri delle chiusure li divido per 21 e viene fuori questa media qua quindi ci dà una linea che va a mostrare che va a seguire quella che è la tendenza di fondo io però peso meglio gli ultimi giorni perché perché faccio un trading di breve termine quindi un trading che va da qualche giorno a qualche settimana e quindi cosa faccio mettendo rispondenziale guardate un po' come cambia guardate come vira più rapidamente eccolo qua cioè si riesce ad appoggiare meglio e a muovere più rapidamente rispetto alle dinamiche di cambiamento dei mercati allora siccome a me piace essere reattivo e attivo sul mercato e non e se il mercato gira o il mercato fa determinate dinamiche avere comunque sempre chiara anche quella che è la dinamica di fondo ma anche di breve allora metto una 21 sul weekly e sul daily la metto sui due grafici la stessa cosa non faccio cambiamenti su questo però la metto esponenziale perché così riesco ad avere una migliore visione anche del breve termine molto semplice se qualcuno mi chiede ma è necessario no io tante volte non ce l'ho molte volte non l'ho utilizzata io però ho ormai un'esperienza per cui anche se non alla media vi dico la verità io già vedo se il prezzo è sopra o sotto la media anche se la media non c'è perché ho talmente ormai una sensibilità sui grafici che questo standoci sempre in modo frequente soprattutto abitudinario ogni giorno ogni fine settimana ogni giorno e fine settimana negli ultimi vent'anni non vent'anni ma quasi diciotta anni possiamo dire che ormai c'è una sensibilità nel vederla però questa mi dà anche un po' di ordine no? il fatto di avere questa media superiore del daily qui mi dà dell'ordine e quindi possiamo dare questa regola oggi per andare a vedere gli esempi delle migliori pinbar che le pinbar che andremo a vedere sono quelle pinbar che se sono al di sotto della media mobile dovremmo andare in cerca solo delle pinbar short se sono al di sopra della media mobile andremo alla ricerca solo delle pinbar long ok? così vi do un po' di una regolina che per un price action trader ormai avanzato potrebbe diciamo essere un po' vincolante ok? ma per voi che molti sono anche alle prime armi su questo tipo di strategia magari possono aiutare soprattutto all'inizio per andare a osservare come sono le pinbar e che tipo di informazioni ci danno allora io adesso vi segno un po' quelle che potrebbero essere delle pinbar e poi andiamo a valutare diciamo se veramente possono essere utilizzabili nel trading quindi se hanno la valenza da pinbar io vado un po' indietro ma arrivato indietro fino a qualche mese poi un anno facciamo circa un annetto prendiamo questo grafico qua e andiamo allora io ne segno poi andiamo a vedere le caratteristiche perché e come vanno tradate perché potrebbero non essere delle vere e proprie pinbar ok? c'è questo quindi short poi qua long questa potremmo segnarla qui qui andiamo a vedere non c'è nulla questa non si va a prendere perché? perché è short ma la media mobile è long quindi no non si va a prendere questa molto bene questa le segniamo e poi andiamo a commentarle questa questa no mi raccomando perché questa è contro la tendenza è long qui quindi non è una di quelle che vogliamo andare a vedere qui non c'è nulla io sono abbastanza veloce e poi no questa perché? perché è contro la tendenza quindi non si fa neanche questo avanti avanti andiamo non c'è nulla forse qualcuno potrebbe definire questa andiamo a prenderla così poi vi diciamo vi dico motivi per cui magari non è una pinbar o questa lettra un po' finiamo perché tanto insomma basta che vi spiego un po' qui non vedo nulla ne prendiamo oh questa qui finiamo con questa ovviamente io non faccio solo l'euro dollaro ok abbiamo preso allora da 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 dal 21 aprile 22 un annetto perfetto come abbiamo detto dai 21 aprile 22 abbiamo preso una due tre solo quelle in tendenza 4 5 6 e 7 poi ovviamente c'è la sterlina dollaro c'è l'australiano il dollaro yen il canadese c'è l'oro il petrolio due tre indici qualche azione magari e abbiamo già fatto sicuramente abbiamo già solo con le pinbar abbiamo già un bel po' di lavoro da fare allora partiamo dall'ultima si partiamo dall'ultima andiamo indietro diciamo come i gamberi allora questo questo qui potrebbe essere definita pinbar ma in realtà questa qui io non l'andrei a definire una pinbar perché anche se graficamente noi siamo di fronte a una barra che ha una spike poco corpo e quindi graficamente potremmo inserirla all'interno della pinbar se poi la contestualizziamo vedete che non va a fallire nessun massimo e soprattutto la cosa quindi non va a fare test di massimi precedenti se non quello precedente per carità ma è inside di questa cioè la barra pinocchio non deve essere mai inside della precedente magari una due barre precedenti quindi se noi prendiamo questa rossa massimo e minimo ingloba completamente sia la successiva che quella dopo quindi questo può diventare un altro pattern può diventare un pattern a doppia inside o certi lo chiamano il boomer il boomer di Jeff Cooper quello che c'è su quel libro che non mi ricordo adesso il nome vabbè mi sfugge però è un pattern di diciamo di rottura di di breakout di volatilità come viene chiamato quindi è un altro tipo di trigger non è una pinbar questa qui seppur graficamente potremmo andarla a inserire nel contesto pinbar ma non lo è per questo motivo poi ho segnato questa questa qui diciamo che potrebbe essere aspetta un po' definita pinbar andiamo a vedere dov'è quindi andiamo a prendere qui io faccio così guardate dov'è nel contesto weekly se io prendo qui guardate dove siamo siamo proprio su un massimo vicini a un massimo eccolo lì quindi è molto importante contestualizzare anche il weekly io guardate se segno così con la royal time mi fa vedere sul weekly dove siamo quindi alla settimana dove c'era stato quel massimo e poi rientrato quindi da un punto di vista di contestualizzazione si può anche fare perché se la vediamo ha fallito un po' i minimi precedenti qui c'era questo pavimento è scesa ha fatto falsa rottura dei minimi e ha recuperato quindi giorno dopo alla rottura ecco come si trada la pinbar alla rottura del massimo si può pensare di entrare lunghi ma attenzione quello che vi ho fatto vedere è importantissimo perché se noi abbiamo un livello così importante dove nelle ultime settimane il prezzo non è riuscito a superare dovremmo stare molto attenti e sensibili al fattore take profit o comunque gestione dell'operazione cioè se io compro qui e magari ho un target più ampio e qui vi insegno anche una cosa i target possiamo darceli sia di prezzo ma anche andando a fare delle in questo modo delle mettendo le estensioni di Fibonacci andando a fare delle confluenze di quello che sono i livelli di prezzo i livelli di estensione e sappiamo diciamo che la nostro target principale è qui dobbiamo anche sapere che se fa questo bellissimo ma almeno andremo se abbiamo comprato qui al massimo ci andiamo a spostare a break even e quindi se il mercato poi gira al massimo non andiamo a perdere nulla di quello che avevamo investito inizialmente ma solo quello che stiamo guadagnando se il nostro target è qui va bene quindi questa come pinbar può essere diciamo definita pinbar si può anche tradare ma con estrema attenzione perché va sempre contestualizzato il tipo di situazione anche qui ecco questa invece è una pinbar voglio dire che ha tutte le caratteristiche quando si tradi in trend dopo una gamba ribassista rialzista in questo caso una gamba ribassista quindi un movimento chiaro da A a B ci deve essere o una fase di ritracciamento verso l'alto e poi la pinbar o congestione e poi pinbar non voglio vedere pam 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 e questo o pam 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 una candela e questo non è difficile siamo sui minimi non va bene se invece lui mi fa pam 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 e poi lateralizza un po' e qui mi fa la cosa un po' come ha fatto qui va bene oppure pam 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 mi fa la ritracciamento va bene ritracciamento e lateralità precedente a una pinbar in trend è un'altra delle regoline che dobbiamo darci questa è super buona perché questa fa le caratteristiche che vogliamo vedere ha la sua spike ha poco corpo fallisce tutti i massimi precedenti fa una gamba molto chiara e diciamo precedentemente la pinbar c'è una base una sorta di lateralità una mini congestione che ci indica la possibilità che questo mercato dopo aver fatto questo falsone questo pinocchio può dare un ulteriore gamba ribassista quindi per noi facciamo trading può essere un'opportunità di guadagno e quindi come faccio anche qui attendo sempre che si rompa il minimo e o attendo e imposto poi un ordine un po' sopra per i due o tre giorni successivi o entro direttamente a breakout la mia esperienza dice che quando rompe è molto facile che per uno o due giorni a meno che non ci sia il movimento tipo questo che tra l'altro ho anche tradato e ho condiviso con l'uplattino dopo lo vediamo il mercato tende a fare un po' di ritracciamento lieve quindi la mia storia dice la mia esperienza c'è sempre una seconda opportunità per entrare in un trade a volte anche una terza quindi non abbiamo fret e in questo caso facciamo che entriamo breakout però se non avesse breccato al ribasso non sarei mai entrato mi raccomando questo è importante quindi se lui comunque non brecca e sale per noi non è un'entrata quindi brecca al ribasso e il brecca al ribasso abbiamo io qui adesso ho segnato un livello era un livello di importanza adesso non sto a spiegarvi i livelli in qualche webinar ne abbiamo anche parlato ma per esempio andando a inserire l'estensione di Fibonacci andando a prendere oh guardate com'è perfetto andando a prendere l'estensione di Fibonacci soprattutto quella del 261.8 potrebbe essere il nostro target in questo caso confluente con il livello di prezzo che abbiamo segnato importante quindi in questo caso vendo qui e vado a diciamo il target vado a porlo qui dove si va a inserire lo stop allora anche qui non voglio adesso fare un webinar sugli stop loss però sempre tenuto bene al di sopra dei massimi della pinbar quindi per esempio potremmo raddoppiare la volatilità della pinbar e quindi andare a fare un qualcosa di questo tipo scusate vediamo se riesco a prendere il righellino la volatilità della pinbar è 91 0,91 0,88 0,91 duplica ecco quindi io posso andare a inserire il mio stop dove? più o meno su quest'area regolina generale anche qui non stiamo parlando di una regola sempre io cerco sempre di essere abbastanza elastico nel mio trading però lì può essere quindi raddoppio la volatilità e il mio stop può essere inserito lì quindi la mia massima perdita per evitare che il contesto di mercato mi faccia questo un'altra volta magari e poi scenda quante volte è successo è successo quindi invece io vado comunque a trovare gli spunti giusti e soprattutto se il mercato mi va contro posso ragionare in modo razionale soprattutto rilassato non troppo come dire agitato perché magari sono molto vicino al mio punto di stop e quindi tendo a ragionare un po' più in maniera emotiva e non razionale e quindi ragionare sul fatto beh forse è meglio scendere da questo trade uscire o magari tenere perché le false rotture e quindi le Pinocchio Bar sono parte integrante del mercato in un webinar che ho fatto sempre qui con i G a dicembre io ho parlato delle Trap Bar che sono diciamo una versione diversa dalla Pin Bar ma sempre una versione che potrebbe avere a livello informativo la stessa morale e la stessa storia e quindi le false rotture sono per me fonte di trade cioè io le false rotture sono posso dire oggi che sono praticamente lavoro quasi esclusivamente con le false rotture ok buonasera Sabrina grazie per il complimento non preoccuparti a presto a presto buonasera allora poi abbiamo questa per esempio eccola qua questa qui in trend questa l'ho anche tradata tra l'altro anche qui avevamo come possiamo notare quest'area che aveva fatto un po' da resistenza una volta rotta guardate un po' rotta qui aveva continuato a mantenersi al di sopra poi ha fatto questo quindi è andato giù ha rotto i minimi li ha recuperati e ha fatto questo si entra long e si cerca il movimento anche qui ovviamente si avranno dei livelli si stanno un po' attenti si contestualizza il weekly anche qui si può andare a valutare delle uscite per esempio sull'area sempre quella più importante 261.8 per esempio oppure magari se si voleva avere l'area successiva perché faceva con confluenza ma una situazione del genere ovviamente va gestita bene io ricordo che alla fine di questa giornata chiusi l'operazione sul praticamente con la chiusura del corpo cioè su quest'area qua e questa è una cosa che vi dico e che è statisticamente una cosa che ho visto che dopo un trigger qualsiasi sia in questo caso stiamo parlando delle pin bar nel caso in cui ci sia una barra che ha una grande volatilità cioè una volatilità che è 4-5 volte è la volatilità del corpo come corpo della volatilità dei giorni precedenti qui se notiamo una volatilità del genere non la faceva da tempo forse il 6 gennaio non era fatta simile ma neanche se vogliamo e qui eravamo all'1 di febbraio quindi nei giorni precedenti la volatilità e il corpo vedete erano molto più piccoli se succede una cosa del genere quindi la volatilità si amplifica il corpo diventa grandissimo rispetto a quello che c'era nei giorni precedenti e chiude forte forte noi siamo long ecco una cosa diciamo che non è sbagliata e che statisticamente è valida perché qui abbiamo fatto degli studi in tanti anni qualche anno fa riguardo questo elemento è sempre più remunerativo chiudere più efficace chiudere chiudere si incassa perché perché sono più le volte che il mercato tende a ritracciare più del 50% spesso comunque il 50% per poi magari tornare long in questo caso non è successo ma a volte torna allora noi possiamo intanto capitalizzare il movimento che in questo caso è stato di una giornata e quindi andare a incassare un bel profitto nel brevissimo tempo non è sempre così il mercato non è sempre così quindi quando fa così prendiamoli e poi al massimo rientriamo su ulteriori conferme andiamo a vedere gli altri esempi sono in tempo non faremo in tempo a vedere probabilmente gli short o i long contro trend ma comunque va bene ecco qui questa qui è un'altra questa qui è un'altra che non è una pinbar anche se graficamente potrebbe ricordarla la pinbar ma non lo è perché non lo è perché non fa nessuna falsa rottura non c'è uno swing precedente quindi non c'è né un pullback né una lateralità precedente e non quindi non fa poi una falsa quindi non dice una bugia non va a fare come dire non va a prendersi questi massimi per esempio non va qui e fa questo allora questa sarebbe stata una pinocchio bar questa qui è praticamente in una gamba low short che si sta venendo a verificare e in quella giornata c'è più che altro un consolidamento dei prezzi sulle chiusure precedenti il mercato ha tentato un po' di rialzo ma è più che altro un esaurimento consolidamento esaurimento in una tendenza short ma non è una pinocchio bar anche se graficamente lo è ok quindi non si trada poi c'è questa guardate un po' questa qui è una pinbar che invece ha tutte le caratteristiche in trend va a ritestare anche un'area che avevo segnato importante fa una lieve lateralità precedente e quindi questa è una pinbar che si può tradare quindi io vado a inserire il mio trade short qui e il mio stop dove lo inserisco sempre come abbiamo detto quindi se io vado a prendere il mio la mia pinocchio bar e quindi prendo in questo caso eccolo lì la la mia volatilità dovrò andare a inserire il mio stop sempre almeno il doppio della volatilità del trigger quindi in questo caso qui adesso qui ovviamente si aprirebbero un sacco di di dinamiche perché io un trade del genere probabilmente l'avrei chiuso a break even o comunque in leggera perdita probabilmente mi viene da dire però facciamo sempre oggi vi ho dato un po' di regoline anche per iniziare a imparare a leggere i mercati in questo modo per poi magari diventare un po' più elastici sciolti nel tempo quando si approfondiscono i temi però in questo caso vedete che andando a inserire uno stop che è sempre almeno almeno il doppio dal massimo cioè il doppio della volatilità quindi dal massimo la stessa volatilità massimo e minimo del trigger noi avendo rischiato da qui a qui facciamo esempio 100 noi non saremo mai usciti dal mercato e anzi qui il mercato ha fatto un'ulteriore falsa rottura non è una pinbar ma vedete che è una falsa rottura la fa in due giorni diciamo trap bar se vogliamo cioè barra trappola rientro il mercato che poi addirittura da una perdita di 100 perché qui se noi l'avessimo messo qui sarebbe stata una perdita di 100 diventa un profitto minimo di 100 ok quindi vedete com'è importante ecco Claudio dice ciao Arduino seguo molto la tua logica degli stop ecco com'è importante seguire questa logica io personalmente sono nato come voi con gli stop come scrivono tutti i libri di trading con in testa solo risk reward tutte queste cose qua nel tempo e non andava male ma nel tempo ho capito che l'evoluzione per migliorare il mio trading sia da un punto di vista della gestione emotiva sia da un punto di vista dei risultati era questa l'evoluzione cioè andare a mettere stop dove non li mette nessuno mettere stop ampi mettere stop su punti poco raggiungibili dal mercato mettere stop in punti dove il mercato su quei livelli cambia la view eccolo lì perché altrimenti cosa serve lo stop farsi prendere ogni volta no non ci credo allora lo stop deve essere come dire un paracadute che io apro solo se mi serve e quindi deve essere impostato in punti importanti e non perché mi rompe appena un massimo un minimo che senso ha mercato non può essere così millimetrico anzi il mercato si nutre proprio dei punti vicini a quei livelli perché lì c'è tanta liquidità e quindi per eseguire ordini importanti su quei livelli si trova quella liquidità lì ok quindi noi dobbiamo cercare di andare a inserire assolutamente degli stop che siano ampi e che possano farci gestire bene la nostra emotività e anche quindi il nostro trade perché poi tutto è connesso Claudio dice ti permette di sbagliare un po' meno e non brucia continuamente il capitale bravissimo e comunque quando si sbaglia perché io tante volte le operazioni le chiudo anche in perdita ma se io ho deciso qua di rischiare 100 se vedo che il mercato vada da un'altra parte magari ne perdo 50 perché a un certo punto dico vabbè non ne ha più è al massimo rientro quindi gli stop rimangono sempre più piccoli in realtà del massimo stop seppur anche il massimo stop può essere preso e ci sta ma questo permette di avere stop reali quindi perdite nel conto sempre spesso più piccole del nostro paracadute e in realtà molti più guadagni e quindi non brucia come dice Claudio il capitale in maniera costante perché utilizzare stop troppo stretti ha questa caratteristica poi l'ultimo sì dai guardiamo l'ultimo eccolo qua questa è un'altra Pinocchio Bar assolutamente da tradare anche questa in trend quindi i massimi qui vedete c'erano dei massimi che sono stati rotti al rialzo vengono ripresi al ribasso e alla rottura si crea il movimento short quindi anche qui la dinamica c'è c'era stata questa base un po' di ritracciamento la falsa rottura dei massimi precedenti la candela graficamente a una Pinbar vendo sotto e vado a poi a vedere un po' dove sono i livelli io posso adesso farvi la regolina questa qua ecco per esempio un punto di exit potrebbe essere 261.8 o come sapete sempre l'estensione che va a confluire con il nostro livello chiave preferito quello che è il primo insomma il primario che troviamo quello più importante quindi in questo caso per esempio in uno di questi livelli si poteva andare a ottenere un discreto movimento e un discreto profitto va bene vedete ho fatto tutti gli esempi sul daily mi ero tenuto con il weekly per farvi capire che è molto importante la connessione daily weekly ed è molto importante quindi contestualizzare il tipo di trigger bene allora per oggi è tutto io penso di avervi spiegato molto bene cosa sono le Pinbar che formano di avervi spiegato molto bene anche le Pinbar in trend con delle regoline abbastanza standard generalizzate ma che possono essere utili se avete delle domande prima di lasciarci volentieri io sono qui quindi vi posso rispondere ecco qui Stefano che mi scrive ciao Arduino quella del 12 ottobre non la consideri perché il corpo è troppo grande quella del 12 ottobre vediamo un po' 12 ottobre allora aspetta aprile marzo ottobre ottobre 12 ottobre ah questo qui questa dici 11 ottobre o o 13 ottobre allora questa qui questa dici no questa non è una Pinbar non ha lo spike che va a fare falsa rottura va bene Stefano questa qui dici ok il 13 ottobre no perché abbiamo detto che nella tendenza short avevamo la media mobile questa qui sarebbe long quindi in questo caso noi non andiamo a tradare è ovvio che qui ho dato delle caratteristiche e delle regoline per cui tutto diventava abbastanza come dire disciplinato nella visione di una Pinbar poi se andiamo a vedere l'1,2,3 il movimento che c'è stato poteva essere utilizzabile però in un contesto diverso e non con la Pinbar che vi ho spiegato oggi ok quindi per il tipo di contesto essendoci una trama short qui questa non andava tradata perfetto allora Angelo poi dice Pinbar lontane da EMA21 sono tradabili o preferisci tradare Pinbar vicino a EMA21 anche qui il quesito allora ricordiamoci sempre che la Pinbar segue i prezzi quindi la Pinbar che noi vediamo oggi per esempio quando c'era questa in quel momento che noi la vedavamo la media mobile era più lontana siccome poi il prezzo è sceso e sta continuando a scendere adesso questa Pinbar chiamiamola così questa Inside fatta Pinbar che abbiamo citato prima appare più vicina quindi Angelo questa cosa della lontananza la vicinanza insomma è un po' relativo io preferisco vedere il movimento precedente che tipo di movimento ho fatto vedere la contestualizzazione del mercato e da lì lavorare più che la lontananza della media mobile direi di guardare la lontananza dell'ultimo swing nel weekly quindi se io sono so leggere gli swing e sono qui e si viene a formare questa quello che dicevo prima e questa qui era qua sopra vicino al livello la volatilità si sta abbassando e l'ultimo swing low perché l'ultimo swing è qui quindi il 13 marzo e siamo al 24 aprile ed è lontano allora probabilmente è lontano dall'ultimo swing weekly attenzione io guardo più che altro quello va bene l'ingresso al 50% del valore della pinbar può essere Alessandro che mi chiedi ci può stare ma anche qui io sono sempre dell'idea che va ragionata la cosa ok Alessandro tu mi citi price action ecco ricorda che la price action che senti da me è la price action più pura e più vera ok quando iniziano si inizia a parlare di price action su time frame di altro tipo price action insieme a volumi o simili non è price action ok è un'altra roba va bene bene allora io vi ringrazio vi saluto vi auguro sicuramente una buona serata e noi ci vediamo sicuramente il prossimo mese vi ricordo sempre che potete tranquillamente venire all'ITF di Rimini a metà giugno sarò con i G al loro stand e anche in una delle sale quindi ci possiamo vedere l'ITF sarebbe la fiera del trading online se invece volete approfondire le tematiche della price action fatta in un certo modo potete entrare nel sito YAR Forex e qui poi abbiamo anche il whatsapp qua sotto potete fare le vostre domande vi risponderemo quanto prima o comunque approfondire con i vari nostri servizi e corsi va bene va bene allora io vi ringrazio vi saluto vi auguro una buona serata una buona continuazione e ci vediamo presto ciao a tutti